Questo del servizio di apertura sul degrado di Roma, Roma resta una fattoria degli animali però noi vi dobbiamo una precisazione, la notizia di un topo all'interno di un bar dell'aeroporto di Fiumicino è una notizia falsa, una cosiddetta fake news, ne circolano parecchie di questi tempi e quindi noi vi chiediamo scusa. Continua a far paura la nube nera a sud del...